Presidente Zaia, da mesi chiede maggiore coordinamento tra le regioni, il nuovo statuto rispecchia questo con la Confederazione? Direi di sì, la Confederazione è la prima interpretazione concreta di quello che chiediamo, dall'altro devo anche dire che in questo statuto c'è riferimento concreto al fatto che ogni regione poi decide da sé le alleanze e le strategie. Scrivere il manifesto della Lega, ha detto il mio segretario Maroni, con delle idee, una di queste è la regionalizzazione del debito che ha già lanciato anche lei, cosa comporterebbe? Comporta la volontà di mettere in discussione la politica economica e finanziaria dell'Italia, vuol dire non pagare più per gli altri e decidere fino in fondo che la nostra strategia sia quella di chiudere i conti con il passato e poi diciamo autonomia, autonomia, autonomia. Lavoro aiutare chi non ce l'ha, esodati si è detto molto, lei in regione ha già per esempio previsto anche un numero per aiutare gli imprenditori in difficoltà? Noi abbiamo un numero verde, ci siamo mobilitati da subito con il numero di suicidi, con il numero per l'aiuto degli imprenditori e siamo sicuri fino in fondo del fatto che assieme questa sfida la affrontiamo e la vinceremo.